La tua SPA, nonostante le innumerevoli difficoltà dettate dalla pandemia, è riuscita a chiudere il bilancio 2020 in positivo. L'azienda di trasporti della regione Abruzzo, per il secondo anno consecutivo sotto la guida di Gianfranco Giuliante, ha fatto registrare un utile ed un valore della produzione di oltre 104 milioni di euro. Un risultato importante se si considera il crollo dei ricavi da biglietti e abbonamenti, per effetto della riduzione dei passeggeri e il conseguente calo degli altri ricavi connessi al servizio. L'azienda ha mantenuto sostanzialmente l'equilibrio economico in ragione della capacità che ha avuto di razionalizzare con l'accordo della regione Abruzzo i servizi e di contingentare le spese. Grazie all'intervento che la regione Abruzzo e il governo hanno effettuato sul ristoro dei guadagni, ma anche e soprattutto grazie all'opera di efficientamento che era già stata messa in atto prima che arrivasse il Covid e quindi la macchina organizzativa era già tarata sul limite dei fabbisogni e quindi è stato semplice poi lottare modelli organizzativi più snelli. Quest'anno, dopo il primo semestre che è stato altrettanto nefasto per il settore, si respira un'area diversa, i ricavi di traffico iniziano a aumentare, la gente inizia a viaggiare e quindi non saranno più richiesti sacrifici né in termini di riduzione di servizio né di cassa integrazione, però le opere fatte, le operazioni fatte sui processi aziendali che hanno consentito di ridurre i costi in maniera strutturale, quelle restano e consentiranno all'azienda di essere florida anche nei prossimi anni. Intanto la società sembra essersi messa alle spalle le difficoltà registrate sulle linee riservate agli studenti sempre a causa del Covid-19. A confermarlo è lo stesso direttore generale Di Pasquale. La regione Abruzzo è stata la prima regione ad attuare il modello ad orario differenziato in Italia. È chiaro che noi lavoreremo sul modello tradizionale, che è il piano A, speriamo che possa essere utilizzato, sul piano B che è il modello, chiamiamolo prefettizio, le tavole messe in campo quest'anno e stiamo lavorando su un'ipotesi intermedia che potrebbe essere avviata nel caso in cui non si sia tornati né alla piena normalità ma neanche alla situazione drammatica dell'anno scorso.